Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Scusatemi raga, non so che cosa mi è successo alla voce Comunque, bentornati sul mio canale YouTube, come vi dicevo Oggi appuntamento molto ricco con quelli che sono i Toz di Bundesliga Infatti, noi ne andiamo a vedere tre ma addirittura quattro Tutti quanti del reparto difensivo e tutti quanti i giocatori che so Che siete abbastanza interessati a sapere se sono realmente validi o meno Parliamo di Baku, Lacroix, Lazaro e di Davis Quindi tutti i giocatori terzini tranne Lacroix e difensore centrale E già sono le domande quali saranno ma io non vi preoccupate Vi darò le risposte che cercate Come al solito, recapino statistico, pronti via E poi passiamo con quelle che sono le clip registrate durante la VL Primo giocatore Riddle Baku, 1,76 di Cristiano Alto normale il work rate, piede destro, 3 di skill e 4 di piede debole Sapete che anche per un terzino reputo che le stelle skill siano importanti Per cui questo 3 un pochino mi lascia interdetto Però il 4 di piede debole già invece è una nota lieta Parliamo di un giocatore quindi non eccessivamente alto Quindi Baku io onestamente ve lo sconsiglio nel ruolo di difensore centrale Perché potrebbe risentire un po' della fisicità di quelli che sono i giocatori offensivi dei vostri avversari Poi per carità è un fulmine su quella fascia La porta veramente a rare Ha degli ottimi passaggi È molto agile anche se comunque ha un body type abbastanza particolare Ha un'ottima aggressività Si attacca bene agli avversari Scivola bene con le L2 Fa degli ottimi interventi Vedrete che si propone anche bene in fase offensiva Nonostante non abbia un ottimo speed boost Secondo me la palla gli rimane spesso sotto E non prende questo grandissimo campo Però costa 55k Quindi per quello che vale per me è veramente un ottimo giocatore Gli do un bel otto e mezzo pieno Soprattutto in termini di rapporto qualità prezzo Con uno stile ombra consigliato Stile intesa consigliato di ancora e non ombra in questo caso Quindi Baku promosso a pieni voti possiamo dire Così come è promosso a pieni voti Alfonsino Davis nella sua versione Toz 1m1 alto normale Piede sinistro 4-4 Qua la domanda è Davis come lo vedi da DC? Bene, 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 bene L'ho preferito da DC ragazzi Se vi devo dire la verità Perché è un fulmine C'è una velocità questo giocatore senza senso Quando recupera il pallone anche da DC Rilancia bene l'azione Ha uno speed boost fenomenale Ha degli ottimi passaggi Ha un buon tiro Qualora lo utilizzate appunto da terzino Con propensione offensiva È agile Fa degli ottimi interventi automatici Ottime scivolate in allungo Aggressivo, forte Si attacca bene ai giocatori Davis veramente gli do un 9 pieno Anche perché ormai costa 500k Quindi è sì meno ibridabile di un Mandy Bird Però insomma è più forte A mio modo di vedere Quindi visto che costa meno Gli devo dare per forza un 9 pieno A questo Davis Che ormai ha sbloccato anche tutta una serie di link Molto interessanti all'interno della Bundesliga Che è possibile andare a riutilizzare Quindi lui Sopra, sopra, sopra le aspettative Perché non mi aspettavo che fosse così, così forte E vi ripeto in particolare da DC Il buon Alfonsino La Croix Finalmente sono riuscito a metterci le mie mani sopra Stamattina Difatti era estinto su Xbox Sono riuscito a prenderlo più o meno per 390k Un metro e 90 Piede destro 2-2 non ci importa Un difensore centrale Un fenomeno La Croix è un mostro È una sorta di Varane Infatti ha anche un body type molto varanesco Molto simile Abbastanza alto Ingombrante Veramente molto interessante sotto questo punto di vista Poi recupera Veramente alla grande I giocatori lanciati avversari in campo aperto Ha un sacco Un sacco Un sacco Un sacco Di reattività Quando l'avversario si trova all'interno dell'area di rigore E voi cercate di coprire gli movimenti con l'L2 È aggressivo È forte Pulito negli interventi Un sacco di autoblock come vedrete È sempre preciso Quindi quando recupera il pallone La palla non gli scappa mai dai piedi È sempre nella sua disponibilità Per poterla poi rilanciare L'azione Non succedevano quelle cose strane Che mi sono capitate con Varane Con questo qua Con questo Lacroix In più è anche francese Quindi non solo lo potete ibridare in una Bundesliga E la difesa del Wolfsburg diventa pazzesca Penso a lui Penso a Babu Penso a tutta una serie di strong link Veramente top Ma può essere utilizzato anche ad esempio Con un ben di terzino Un Fofanà Un Ariola Insomma tutti i giocatori francesi Che ne è pieno il mondo Non solo quest'anno Ma su ogni FIFA La Francia sappiamo che è una delle nazionalità Sicuramente più forti Quindi Lacroix Promosso a pieni voti Un 9 anche per lui Penso se lo meriti Soprattutto per il rapporto qualità-prezzo Non so quanto andrà a costare Una volta che Boh Non so se gli cambieranno il cap Ma non credo Perché dopo la Weekend League Secondo me lo lanceranno un po' sul mercato E credo che si assesterà più o meno sui 3-3 qualcosa Anche su PS Ultimo giocatore È Lazaro Che campione Valentino Lazaro Ce lo ricorderemo per la parentesi poco fortunata all'Inter Ma questa versione qui È veramente un regalo Costa praticamente 100k Quindi ve lo fate anche a 0 con le carte nel club È un metro e 80 Alto, alto È a 5 di skill e 3 di piede debole Ed è un metro e 80 Lo posso usare di C? Sì Ma io devo dire la verità L'ho preferito da terzino Perché è velocissimo La fascia veramente la hara È a buoni passaggi È un ottimo tiro quando si propone È a quinta skill Quindi fa sia la finta del suola più scoop turn Si può farvi un elastico Insomma skill che vi permettono di liberarvi sulla fascia È agilissimo Fa delle ottime coperture difensive Diagonali Non ve lo dico proprio Con l'L2 è molto reattivo È forte È aggressivo Quei parametri di forza aggressività Secondo me sono un po' fake Perché si attacca veramente bene all'uomo Avrei detto almeno un 85 Ora non ricordavo 81 veramente mi sembra molto molto poco È bravissimo anche ad allungarsi Per coprire quelli che sono i filtranti degli avversari Mi ha veramente colpito questo giocatore qui Perché vi ripeto Soprattutto per il fatto che costa praticamente 100k E attraverso quelle che sono le carte I vari pick eccetera eccetera Ce lo portiamo a casa alle volte anche gratis È veramente veramente sballorditivo questo Lazzaro Senza perdere ulteriore tempo Dopo il recapino statistico Andiamoci a vedere invece le clip che ho preparato per voi All'interno di quest'ultimo Di quest'ultima Weekend League E la prima è proprio riguardante Baku Come potete vedere Vediamo lo speed boost Con la palla che rimane un po' sotto Quasi balbettante Baku va via sì in velocità Ma perché l'avversario Vedete non è che gli viene sotto Vedete che non c'è quello scatto bruciante Come vedrete dopo magari con Davis Quindi su questo punto di vista Non mi ha convinto Però guardate qui come riesce a mettere Il suo fisico davanti a un giocatore come Lucas Vazquez E recuperare palla in maniera pulitissima Solamente spostandolo Qui invece una delle azioni che vi dicevo Utili di questo Baku Anche in propensione offensiva Arriva all'interno dell'area di rigore Dice di girarsi e rigirarsi 12 volte Drag back si gira ancora Ancora numeri Si gira ancora Portiere che esce Lo salta e imbuca Guardate infatti l'agilità Palla al piede di questo Lazzaro Che vi dice Di questo Baku Che vi ripeto me lo fa preferire da terzino Perché vi dà appunto la possibilità Di poter anche fare Tutta questa serie di movimenti Sull'out che vi danno un vantaggio Guardate qui ha portato a spasso Tutta la difesa Baku sembrava Pelé E invece era Baku E la insacca così Qui ancora una volta con Barnes Vedete lo sposta di fisico Poi vado apposta a cercarmi Questo scontro reiterato E Baku ne è uscito Perfetto Palla al piede Iniziamo a vedere invece Le clip di Davis Guardate qui che anticipo pulitissimo Si teletrasporta praticamente Davanti al ricevitore di palla Avversario E gliela recupera Guardate qui lo speed boost Di cui vi parlavo in precedenza Lo sto giocando da terzino In queste clip Guardate torno indietro Per sfidare il mio avversario Lo punto ancora una volta Speed boost bruciante Poi la palla che viene data dentro Qui invece lo troviamo Nella posizione difensore centrale Ottima la chiusura Che va a disorientare Mount Semplicemente vedete Frapponendosi Tra quello che è la conclusione Dell'avversario E appunto il pallone L'azione poi Prosegue Sbaglio Il rovinoso passaggio Con Dalglish Ma non preoccupatevi Perché quando avete Davis in difesa State tranquilli Che guardate qua Boom Palla scaricata in fascia Arriva un'altra volta a lui Come un toro E rilancia l'azione Qui Isaac Guardate Sembra aver preso il sopravvento Sembra averlo lasciato dietro E stirata Dopo aver fatto due bassi brucianti Per recuperare quel piccolo gap E appunto Riesce a prendere il pallone Passiamo invece sulla Croix Guardate qua In questa azione Bappé arriva a calciare Io sto controllando Vedete in questo frangente Sabitzer La Croix Da solo Va a scildare La conclusione Di Pelé a botta sicura Porta vuota Con il mio Yashin Che era rimasto Inerme A terra E quindi non sarebbe potuto intervenire Questa giocata qui Non sottovalutatela Perché qua Vedete che Pelé ha di spalle Io sto praticamente Semplicemente schiacciando L2 In automatico Metto il piede E mi fa sganciare Pelé Col pallone E io posso recuperarla Con Sabitzer Questa qua È proprio il più classico Degli interventi automatici E non va sottovalutato Perché appunto vi dico Lo fanno veramente Veramente In pochi Guardate Io premo L2 Ci mette il piedino E la butta E la butta in avanti Ancora Andiamo a vedere questa giocata Dove viene fatto Questo filtrante Nella zona di Bruno Fernandes La Croix Semplicemente con una spallata Porta a spasso Bruno Fernandes Esce anche in maniera pulita Passiamo a vedere invece Lazzaro Vedete nella posizione di terzino Lo speed boost Sicuramente meglio di Baku Ma non esplosivo Come quello di Davis Qua invece Una serie di Di chiusure Guardate qua Su questo Su questo passaggio Precisissima La sua diagonale E poi guardate Su questo filtrante Come copre bene il movimento Sembra che Neymar Sia passato davanti Invece fino all'ultimo Gli rimane Attaccato Grazie appunto alla sua Aggressività E riesce a Intervenire Quindi ragazzi Voto recap Per quanto riguarda Baku Gli diamo un bellissimo 7 e mezzo Per quanto riguarda Davis E la Croix Un bel 9 Per Lazzaro Un bel 8 pieno Quindi tutti i giocatori Che mi hanno convinto Tutti i giocatori Che vi straconsiglio All'interno delle vostre squadre Tutti i giocatori Che secondo me Sono andati a alimentare Una batteria di difensori Che quest'anno Già era bella nutrita Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Che ne pensate Se avete già provato Li proverete Vi ricordo che in descrizione Trovate tutte le info Per le live giornali Sulla piattaforma Viola E nulla ragazzi Un saluto Un abbraccione a Riberoschi Ciao